Prego. Benitez è un grandissimo perché prima di tutto è una bella persona, bella solare, bella schietta, ha conoscenze da vendere per cui è sempre un piacere parlare con uno come lui. Qui dentro Castelvolturno, quando si parla di lui, tutti hanno un ricordo splendido, tutti quelli che lavorano qui dentro e questo è significato che lui sa comportarsi anche con le persone che lo circondano, che fanno un lavoro più comune a quello tanto pubblicizzato e tanto poi visto in televisione, è sintomo di persona seria, di persona per bene, di una persona che ha grandi valori.